La bianco scudati Padova torna nel calcio che conta. La vittoria ieri pomeriggio per 2 a 1 sul campo del Legnago sancisce la definitiva promozione contro il giornale di anticipo, il legaporto degli uomini di mister Parlato. Sicuramente è stato fatto un passo importante e adesso c'è da continuare. Arrivano in piazza su un bus scoperto, celebrati da oltre 2000 tifosi in Piazza delle Erbe. Una piazza che si colora di rosso grazie ai fumogeni dei sostenitori bianco scudati. Cori e bandiere accompagnano la squadra fino all'oggione di Palazzo della Ragione dove ricevono il tributo festante della tifoseria. Tifoseria che è stata per tutta la stagione il dodicesimo uomo in campo e a cui va il ringraziamento anche di Capitan Cunico. Quest'estate le vicissitudini hanno fatto soffrire parecchio quindi è dedicato a loro, a chi vuole veramente bene a questa squadra, a questa città. Prende dunque la parola il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, che celebra il tifo bianco scudato. Abbiamo raggiunto un grande riservato della stagione. E anche il presidente Bergamin saluta i suoi tifosi. Sono felice più per voi che per noi. Cori e foto sono andati avanti tutta la serata. Per la fine di un incubo, durato un anno, è chiamato Serie D. «La salsingatica della stagione è chiamato era scura Pray createcando la stor Athlete Asso». Prova Quattro целamento di versi Qualcuno diagensi